Grazie a tutti. Vado ad allinearsi ora la prima lady in gara, Francesca Pallone, pilota della Fiesta 500, piloti per passione della classe 1150 del gruppo A. Grazie a tutti. 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 Saluto a tutti. Saluto a tutti gli amici che ci seguono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.